Sotto i riflettori della scena musicale e della moda, una nuova coppia sta emergendo lentamente, ma con decisione. Il rapper italiano Fedez e la modella francese Garance Othier sono stati recentemente avvistati insieme, suscitando non poche curiosità e speculazioni. Inizio di una nuova relazione. Dopo la fine della sua relazione con l'influencer Chiara Ferragni, Federico Maria Lucia, noto come Fedez, è stato al centro di vari pettegolezzi riguardanti la sua vita sentimentale. Tuttavia, è stato solo recentemente che il rapper è stato visto in compagnia di Garance Othier, una giovane e affascinante modella francese, nata nel 2004. Avvistati insieme. Primissimi indizi. Fedez e Garance sono stati avvistati insieme durante un weekend, mano nella mano, suscitando immediatamente l'interesse dei media e dei fan. La modella, alta circa 180 cm, con lunghi capelli biondi e occhi celesti, sembra essere la nuova fiamma del rapper italiano. Nonostante i due stiano cercando di mantenere un profilo basso, le immagini sui social network parlano chiaro. Una conoscenza non così recente. Secondo alcune fonti, Fedez e Garance si conoscerebbero da più tempo di quanto si pensi. Il loro primo incontro risalirebbe a marzo a Corchevel. Da allora, i due sono stati avvistati insieme a Parigi, Miami e Quakella, fino ad arrivare a Monte Carlo, dove hanno trascorso insieme un weekend. Un amore insordina. Nonostante i recenti avvistamenti, Fedez e Garance sembrano voler mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. Le immagini sui social mostrano Fedez che prende la mano di Garance, mentre lei lo segue cercando di non attirare l'attenzione. Vite parallele. Mentre Fedez e Garance trascorrono del tempo insieme, Chiara Ferragni sembra essersi lasciata alle spalle la storia con il rapper. Imprenditrice digitale è impegnata nella sua vita, circondata dai suoi figli e dai suoi amici più cari. Nel frattempo, Garance Othier è iscritta alla IE Business School di Madrid, la città che ha ispirato Chiara Ferragni, mentre Fedez e Garance si trovavano insieme al GP di Monaco. Il futuro della nuova coppia. Per il momento, né Fedez né Garance hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro relazione. Tuttavia, le immagini e gli avvistamenti parlano da soli. La nuova coppia sembra essere felice e serena, lontana dagli occhi indiscreti del pubblico. Solo il tempo ci dirà se questa relazione si rivelerà essere una semplice avventura estiva, o qualcosa di più profondo e duraturo. La carriera di Garance Othier. Garance Othier, nonostante la giovane età, è già una modella affermata. La sua carriera è iniziata quando era ancora un adolescente, e da allora ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti del settore. Oltre alla sua carriera di modella, Garance è anche una studentessa impegnata, iscritta alla prestigiosa IE Business School di Madrid. Fedez. Dalla musica all'amore. Fedez, d'altra parte, è noto per la sua carriera musicale, ma anche per le sue relazioni di alto profilo. Dopo la fine della sua relazione con Chiara Ferragni, il rapper si è tenuto lontano dai riflettori, concentrandosi sulla sua musica e sulla sua vita privata. La sua relazione con Garance Othier sembra essere l'inizio di un nuovo capitolo nella sua vita. Amore ai tempi dei social media. In un'epoca in cui i social media giocano un ruolo fondamentale nella vita delle celebrità, Fedez e Garance stanno cercando di mantenere la loro relazione il più privata possibile. Tuttavia, come abbiamo visto, non è sempre facile sfuggire all'attenzione del pubblico e dei media. Un futuro tutto da scrivere. Mentre Fedez e Garance continuano a esplorare la loro relazione, i fan e i media non possono fare a meno di chiedersi cosa riserverà loro il futuro. Solo il tempo ci dirà se questa nuova coppia sarà in grado di superare le sfide che inevitabilmente si presenteranno lungo il loro cammino. Amore in un mondo di luci e ombre. La vita delle celebrità è spesso caratterizzata da luci e ombre. Amore, tuttavia, sembra essere una costante, capace di superare ogni ostacolo e difficoltà. Fedez e Garance Othier stanno vivendo un momento speciale della loro vita, un momento che solo il tempo e l'amore potranno definire.